Cosa vuol dire questo premio e soprattutto con questa motivazione? Una operazione che ha catalizzato l'attenzione di tutto il mercato? Noi siamo contenti perché non abbiamo dichiarato il nome dell'operazione, però devo dire che avendo avuto un'influenza su alcune costituzioni quotate e alcuni aspetti regolamentari, è stata molto complessa, abbiamo messo in mezzo il Singapore, l'Inghilterra, l'Italia, è una struttura familiare complessa che crede molto nell'Italia e ci fa piacere che abbia scelto uno studio di boutique italiano per dare continuità generazionale al loro family business. Quanto è importante un premio in questo settore? Noi ci teniamo, tra i talenti, noi siamo uno studio piccolo, medio, immodestamente, comunque internazionale, abbiamo tante persone a Londra, abbiamo un avamposto a Singapore, in Svizzera e stiamo per aprire a Monte Carlo con una grande partnership, per cui ci teniamo ad essere international partners del family business italiano. Come sta andando la serata con chi siete al tavolo? Ci divertiamo molto, siamo con un po' di avvocati M&A, trasporti, uno ha vinto, queste serate sono anche un po' per giocare, divertirci e io sono contento del mio team che si merita questo premio.